Siamo arrivati a Gesù Cristo, sono molto lieto di questa opportunità che mi ha aperta stasera, inaspettata, di rivolgere il saluto a tutti i giovani della Diocese di Gliatti, e naturalmente a tutta la Diocese, pensando all'incontro che abbiamo fatto. Ecco, ho rispettato infatti l'invito del nostro Vescovo di venire a celebrare con voi questa grande festa che ci sarà il 18 maggio, la Diocese di Pentecorto, e ci ricordo tre anniversari molto importanti che certamente voi conoscete. Quindi, ecco, già nell'attesa di incontrarci, sento la gioia di stare con voi e vi auguro ogni venere, e l'invito del nostro Vescovo di Pentecorto, che è un'ottima cosa.